buongiorno a tutti con questo video tutorial andiamo a vedere come compilare la domanda la procedura per le 150 preferenze ai fini delle degli incarichi delle supplenze per l'anno scolastico 2024 2025 scelta importantissima ricordiamo per poter partecipare ad aspirare a un posto di scadenza contrattuale 31 agosto 2025 scadenza contrattuale 30 giugno 2025 cioè per gli incarichi le supplenze da gae e gps dunque vale solo per coloro che sono inseriti nella nelle gae e nelle gps per il piegno 24 26 andiamo entriamo sul sito del ministero dell'istruzione del merito andiamo in alto a destra nel all'accesso del della zona riservata facciamo accesso andiamo area riservata e ci facciamo il login per entrare con lo speed una volta entrati con lo speed e dunque entrati in quest'area riservata andiamo a istanze online all'istanza online e vediamo in alto l'informatizzazione per le nomine e le supplenze che il servizio che ci riguarda per questa procedura dunque accediamo o direttamente da qui facciamo clic e ed entriamo nell'elenco delle domande ora ogni aspirante troverà la provincia in cui è inserito troverà la gradatoria di le gradatorie per cui è inserito nel caso specifico la 041 la 040 la 060 la 047 la 037 e il sostegno per le medie e per le superiore e poi per poter andare proprio nella pagina per la compilazione della procedura andando al dettaglio delle gradatorie dunque vai al dettaglio si entra nella pagina dove si può fare la domanda nella pagina dove si può fare la domanda vengono ripetute la provincia di inserimento in gradatoria che può essere o gai o gps anche se qui nello specifico ciò non viene espresso il gradatore il tempo di apertura della compilazione e di chiusura della compilazione che è molto importante vediamo che il 26 07 2024 dalle ore 9 è possibile compilare l'istanza che verrà chiusa il 7 agosto 2024 alle 14 a questo punto la domanda risulta inserita ma non inoltrata importantissimo perché l'inoltro significa che la domanda arriva a destinazione dell'ufficio competente per la procedura andiamo che l'ufficio scolastico in questo caso della provincia di reggio calabria vediamo gli step da compilare o già pre compilati sono tutti quelli colorati in azzurro o in celestino e li vediamo nella fattispecie qui sono il numero 1 il numero 2 il numero 5 il numero 7 il numero 8 quelli in grigio nella fattispecie non sono compilabili cioè sono da compilare esclusivamente da parte di quegli aspiranti che sono inclusi nella prima fascia sostegno o anche il numero 4 è da compilare solamente per la prima fascia del sostegno e il numero 6 solo per chi ha titoli di riserva da inserire vediamo il caso specifico ecco quando passiamo da un uno step all'altro noteremo che il colore cambia diventa blu scuro vedete da celestino diventa blu scuro e viene inserito andiamo allo step numero 1 lo step numero 1 è lo step dei dati personali che è di fondamentale importanza perché pre compilato ma deve essere compilato correttamente ci sono i dati anagrafici come vediamo i dati del recapito dati di fondamentale importanza perché la domanda venga diciamo inoltrata con i dati anagrafici corretti dati anagrafici dati di recapito il numero 2 è lo step degli insegnamenti altro molto importante altra procedura importante per verificare con i pallini verdi che vedete lo stato del delle gradatorie cioè se avete verde significa che avete la condizione positiva dell'inserimento nella fascia di riferimento in questo caso sono tutte gps ecco vedete che sono gps fascia 2 nel caso fosse una gae verrebbe scritto gae e la e la fascia delle gae di riferimento abbiamo le gradatorie di inclusione che sono queste e le gradatorie incrociate dunque sono gradatorie incrociate di sostegno per la media e per le superiori e le gradatorie sono incrociate quando non si ha il titolo di specializzazione e nemmeno si ha la fase in cui si è in seconda fascia cioè almeno tre anni di servizio sullo stesso grado di sostegno svolti servizio sostegno quello stesso grado con tre anni servizio si entrava in seconda fascia nella fattispecie non essendo specializzati non avendo i tre anni si entra in questa in questa gradatoria come incrociata che viene aggiornata in seguito alle modifiche avvenute nella tabelle delle gradatorie di inclusione poi si può proseguire andando avanti per lo step andiamo alla step numero 5 per vedere come inserire le le preferenze ai fini della supplenza e non è un modo da potenzione ma inserire le preferenze ai fini della sconferenza